Musica Benvenuti ragazzi su Jesse e questo nuovo video Oggi non sto registrando dal cellulare con la registrazione di iOS 11 Perché vi devo far vedere più dispositivi contemporaneamente In questo caso due ma si può fare veramente con tanti tanti dispositivi Voglio parlarvi di un'altra app Disto che mi sto prendendo tanto bene a portare app e giochi per smartphone, tablet e così via Quindi oggi voglio portare un'app musicale, un'app per la musica Che c'è sia su iOS che Android Diciamo che potrebbe essere un'alternativa alle casse portatili Se si è in tanti, se si è da soli no Perché ovviamente vi spiego Questa applicazione qua permette di trasformare i dispositivi nostri e dei nostri amici In questo caso ci siamo in gruppo e meglio In veri e propri sistemi stereo Perché vi spiegherò Io apro l'app che si chiama, ed è questa qua che si chiama AmpMe Io l'appro semplicemente, l'installate, l'aprite, vi registrate con Google o con Facebook E potete subito andare ad ascoltare la musica Vi spiego Qua abbiamo Play Music, vediamo la libreria musicale, iTunes E Spotify In questo caso io tipo apro la mia libreria musicale Tipo Metto Da una mia playlist Tipo Ce l'abbiamo qua Un attimo Tipo magari The Wall dei Pink Floyd No, non funziona Tu rimani acceso Allora Ah già perché forse non ce l'ho installato Troppe canzoni Tipo Apro qua Tipo Whatever it takes Di 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 Qua Carica Posso vedere se Il volume Ok Ecco qua La canzone è questa qua Se io la apro su un altro dispositivo Accanto Ecco qua Mi Mi trova Allora Ecco qua Mi trovo Se io vado a cliccare qua Lui carica Visto qua viene fuori che sono entrato Sono qua anche qua Ora semplicemente Se io alzo il volume anche da qua Ecco ora metto in pausa Perché se no poi tra poco mi arriva il copyright Semplicemente Trasforma Proprio Come ho detto In un vero e proprio Impianto stereo I nostri dispositivi Perché Sincronizza L'audio Di tutti i dispositivi Così Il volume Cioè la canzone viene riprodotta Contemporaneamente Nello stesso momento E nello stesso minutaggio Della canzone Quindi non a caso Su tutti i dispositivi Quindi Se sei in tante persone Non so In 5 6 7 Non so se c'è un limite Massimo Di persone Che possono entrare Ma dubito proprio Che non ce ne sia In questo caso Avevo messo una canzone Della mia libreria Se io provo Ad andare A mettere anche una canzone Da youtube Volendo Va benissimo La gente può Entrare Perché comunque Non è una cosa Su invito Chiunque È nelle circosta Circo 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 Che bella Dislessia Se qualcuno È vicino a voi E ha questa Applicazione Aperta Rileverà Qua Perché vedete Tipo un sonar Come se fosse un sonar Rileverà La Il vostro Party Diciamo E potrà entrare E ascoltare La stessa canzone Che state ascoltando voi E quindi se si è In un gruppo Di amici Si mette Tutti con i cellulari Al massimo I tablet O cose del genere Poi magari È anche utile Perché magari Ognuno collega Il cellulare O il tablet Al A una cassa portatile Si ha proprio Un vero e proprio Impiantino stereo Che potrebbe anche Essere un'idea carina Magari se riesco A organizzarmi Con un po' Di miei amici Provo a portarvi Un video A posto Sul fatto Delle casse portatili Usando questa Applicazione qua Però Io tipo adesso Provo ancora A mettervi Una canzone Da youtube Da un attimo Caricare Perché comunque È sempre da youtube Che la deve prendere Non è istantato Soprattutto perché È un conto È ancora La libreria musicale Nostra Però È un altro conto È Una canzone Da youtube Spero che si senta Adesso la mia voce Però Ora se io clicco qua Ok Comunque avete visto Che anche con youtube Funziona Con spotify Non sto lì a provare Però Dovrebbe funzionare Al 100% Senza problemi Perché abbiamo visto Che funziona Con la libreria musicale Funziona Con youtube In questo caso C'è anche Diciamo Una mini chat Che si può Scrivere Volendo quello Che si vuole In caso Persone Nelle vicino Nelle vicinanza Può Mi ha messo Mi ha messo Veramente Incuriosito Mi è veramente Piaciuta Questa canzone Cioè Questa applicazione Qua È una cosa Un po' particolare Però secondo me Con ancora un paio Di aggiornamenti Per sistemare Il caricamento Iniziale Potrebbe veramente Venire Un'app Fantastica Scaricata Da tutti Io vi invito A scaricarla Se mi ricordo Lascerò in descrizione Il link Per scaricarla Da dispositivi IOS Perché io non ho Android Quindi devo Dovete se riesco A metterla Anche da Quello da Android Io vi ringrazio Per aver visto Il video Vi invito a lasciare Like e iscrivervi Al canale Per nuovi video Vi invito a passare Nel link Di install gaming In descrizione Per giochi scontatissimi Da JST È tutto Ciao A tutti Bella Ciao